di aprilia dorso duro 1.2 piacciono il motore e la ciclistica da riferimento eccellenza e punto forte in questa moto non è adatta ai lunghi viaggi ma è una vera fan bike al quadrato peccano i consumi abbastanza alti ma eccelle nel pacchetto sportivo emozionale insomma italiana nello stile e nella sostanza